Una situazione davvero vergognosa, quella di oggi in Consiglio Comunale. La maggioranza si presenta in aula, eravamo 18, si fa l'appello, intasca il gettone di presenza e poi esce dall'aula per far venire meno il numero legale. Evidentemente per loro era importante acquisire il gettone di presenza, perché delle due luna o dovevano continuare a rimanere in aula o avrebbero fatto bene a non presentarsi proprio dall'inizio. Ma è troppo comodo entrare in aula, prendere il gettone e poi andarsene. Quanto è durato in tutto il Consiglio Comunale? Due minuti e poi si è sciolto. Signori cari, questi sono i soggetti che ci amministrano. Questo è Rinaldo Melucci, questa è la sua maggioranza. Queste sono le persone che dicono di volere il bene di Taranto. Persone che vengono che lecitamente, legittimamente intascano il gettone di presenza e poi se ne vanno. Meditate disoccupati di Taranto, meditate. C'è gente che butta il sangue per guadagnarsi 40 euro, butta il sangue, lavora 8-9 ore al giorno. Penso a quelle persone che vengono sfruttate e sfruttate in vari settori lavorativi. E questi signori, due minuti circa 40 euro. Meditate cittadini, questa è l'amministrazione Melucci.